E adesso proseguiamo il nostro viaggio spostandoci a Città del Messico, la capitale da dove è collegato un giornalista italiano che si è trasferito lì, pensate, 40 anni fa, do il benvenuto a Massimo Barzizza, direttore del giornale online dell'Italia in Messico, che è punto d'incontro. Benvenuto all'Italia con voi. Grazie mille, grazie, è un piacere essere con voi. Allora Massimo, ci diamo del tu visto che siamo colleghi. Innanzitutto vorrei capire meglio quanti italiani risiedono, sono lì in Messico e quali sono le attività di cui si occupano principalmente? Beh, in Messico ci sono circa 45.000-50.000 italiani residenti in Messico, di cui circa la metà è ufficialmente registrata e iscritta online. I nostri connazionali sono attivi in questo paese in tutti i settori dell'economia, non è un numero enorme quello che c'è qua, però è sufficiente per essere un po' sparsi in tutte le attività, quindi attività industriali, professionali, culturali, artistiche. Perché quelle legate al settore alberghiero e della ristorazione ovviamente sono più frequenti tra i residenti nelle zone turistiche. Certo. Tra l'altro il tuo giornale è un punto di riferimento non solamente per gli italiani che vivono lì, ma anche per i messicani che vivono in Italia. Come siete riusciti ad arrivare, insomma, ad essere un punto di riferimento? Un giornale così importante? Abbiamo un po' sfruttato una situazione particolare. Tra il Messico e l'Italia c'è molta simpatia tra i messicani e gli italiani, però c'è anche molta, diciamo, poca conoscenza realmente mutua, reciproca dell'altro paese. Quindi abbiamo un po' sfruttato il fatto che i messicani non conoscono bene bene l'Italia e l'Italia e l'Italia e abbiamo cominciato a pubblicare notizie che potessero essere di interesse per entrambe le comunità. Quali sono gli argomenti che piacciono di me? Non è quella che normalmente viene pubblicata dai giornali italiani, cioè non ci occupiamo tanto di cronaca nera, ma di altre notizie che hanno a che fare con le moltissime attività che esistono nel paese. Senti, tu sei lì, so, in Messico da 19 anni, quindi da tanto tempo. Come hai vissuto, come hai visto l'evolversi di questo paese? Il Messico è cambiato moltissimo negli ultimi due decenni, forse anche da prima. Si è trasformato profondamente dal punto di vista economico. L'entrata in vigore del NAFTA, del Trattato di Libero Scambio con gli Stati Uniti e il Canada, ha avuto un'influenza enorme sul paese. E l'ha tramutato, diciamo, in una potenza oggi di esportazioni e di manufatti, cosa che prima non succedeva perché la configurazione economica prima del NAFTA ruotava attorno all'estrazione e all'esportazione di gregi. In ambito sociale è un paese, diciamo, dal punto di vista dell'assetto giuridico molto avanzato, molto moderno, che però ha un fortissimo contrasto dal punto di vista delle disuguaglianze di carattere economico, ma non solo, che si sono proprio accentuate negli ultimi anni. Senti Massimo, con l'elezione di Biden a Presidente degli Stati Uniti, adesso si aprono nuovi scenari per quanto riguarda l'immigrazione negli Stati Uniti. Tu come la vedi? Che cosa si prospetta? Io vorrei fare un commento. La migrazione dal Messico agli Stati Uniti è un fenomeno storico, diciamo, al di là della copertura mediatica legata alle politiche dei diversi presidenti degli Stati Uniti. E ha caratterizzato tradizionalmente il rapporto tra i due paesi, è una questione che continua da molti, molti anni. In queste ultime settimane stiamo un po' assistendo al rimbalzo provocato dalla cancellazione delle strategie anti-immigrazione di Trump. Va sottolineato però che il nocciolo del problema sta nel fatto che il nafta e il suo recente aggiornamento hanno creato questa enorme zona commerciale e produttiva nel Nord America, praticamente priva di darsi, dove però non è consentita la libera mobilità della manodopera. Questa situazione provoca, soprattutto in Messico, un'importante differenza nei livelli salariali rispetto agli Stati Uniti e al Canada. E questa congiuntura dà luogo ad una serie concatenata di squilibri, tra cui l'impulso migratorio evidentemente, che dovranno ovviamente essere affrontati prima o poi nelle decisioni di politica economica della regione. Il governo messicano negli ultimi 30 mesi ha applicato i maggiori aumenti al salario minimo in più di 40 anni, ma le differenze continuano ad essere enormi. Massimo, ti ringrazio molto per esserti collegato con noi. Buon lavoro, ovviamente.